Vanno gratuitamente bene, allora andiamo a vedere invece, ecco le statistiche sono curiosi perché se è cambiata la tattica in campo i numeri che abbiamo letto le volte scorse dovrebbero essere cambiati, vediamo Cagliari Spal 2 a 0, apre la marcatura in angola al decimo del primo tempo con un grande gol fa il 2 a 0, fa la gol 67esimo, sempre bellissimo gol Allora, tiri totali del Cagliari 16 e della Spal 12, tiri in porta del Cagliari 5 e della Spal 5 Possesso palla 42% del Cagliari e 58% della Spal, passaggi 316 del Cagliari e 426 della Spal Precisione ai passaggi 80% del Cagliari e 84% della Spal, falli commessi 17 del Cagliari e 15 della Spal Ammunizioni 4 del Cagliari e 5 della Spal, spulsioni 0, fuori gioco 0 del Cagliari e 2 della Spal, calci d'angolo 6 del Cagliari e 6 della Spal Grazie Diego